Benvenuti ad un nuovo episodio di Radio Pugino NER. Oggi parleremo di storia, in particolare di una delle lezioni più recenti e interessanti tenute dallo storico Alessandro Barbero. Una lezione intitolata Tricolore ha avuto luogo al teatro farnese e ha esplorato un periodo cruciale per l'Italia e per l'Europa, quando l'invasione napoleonica alla fine del XVIII secolo ha sconvolto le fondamenta politiche e sociali della penisola italiana. In questa lezio Barbero ha raccontato come l'avanzata di Napoleone Bonaparte in Italia non sia stata solo una campagna militare, ma un evento che ha segnato profondamente il destino del nostro paese. Uno dei punti cruciali toccati dallo storico è la questione della neutralità. Parlando del Ducato di Parma, Barbero ha illustrato come anche le potenze neutrali pagassero un prezzo altissimo per mantenere questa posizione. Il Duca di Parma, per esempio, pur essendo dichiarato neutrale, è stato costretto a cedere a Bonaparte ingenti quantità di risorse, due milioni di lire, cavalli, buoi e persino opere d'arte. Questo ha messo in evidenza come la neutralità fosse più un concetto teorico che pratico durante i conflitti dell'epoca. Un altro concetto chiave che Barbero introduce è quello di guerra civile, ma in un contesto molto particolare. Pur trattandosi di un conflitto su larga scala. Barbero sottolinea come all'epoca, nel Settecento, vi fosse un tentativo, per quanto imperfetto, di rispettare alcune regole morali nel condurre le ostilità. Cioè, anche se gli eserciti non riuscivano sempre a controllare i saccheggi che facevano i soldati, come quando questi entravano nei pollai dei civili, c'era comunque uno sforzo a livello ufficiale di attenuare le sofferenze delle popolazioni locali. Barbero usa questa espressione per sottolineare l'ambivalenza del periodo da una parte, il conflitto dall'altra, la ricerca di un minimo di civiltà anche in guerra. Un altro aspetto affascinante trattato da Barbero, secondo me, riguarda la nascita delle cosiddette Repubbliche Sorelle. Un esempio emblematico è quello della Repubblica Reggiana, creata dopo che il Duca di Modena, Ercole III d'Este, fuggì all'avanzata delle truppe francesi. I cittadini di Reggio Emilia colsero l'opportunità per ribellarsi al potere modenese e proclamare la loro indipendenza. Barbero descrive con grande vivacità l'entusiasmo dei reggiani che videro in questo momento la possibilità di liberarsi da una dominazione che percepivano ormai come obsoleta ed oppressiva. Queste Repubbliche non furono solo esperimenti politici temporanei, gettarono le basi per i futuri movimenti unitari e democratici italiani. L'entusiasmo è il fervore con cui i cittadini accolsero queste idee rivoluzionali fu un primo passo verso la nascita di un nuovo ordine politico in Italia che culminerà poi solo molti decenni più tardi con il Risorgimento. Uno dei simboli più importanti emersi durante questo periodo fu il tricolore, la bandiera che oggi rappresenta l'Italia. Barbero ha spiegato come i tre colori del tricolore, verde, bianco e rosso, non rappresentassero solo una scelta estetica ma simbolizzassero qualcosa di molto più profondo. Nella sua lezione Barbero fa notare che quei tre colori avevano un significato politico legati alla scelta di aderire agli ideali rivoluzionari o di rimanere fedeli ai vecchi regimi. Il tricolore, nato in contesti come quello della Repubblica Reggiana, divenne un potente emblema di cambiamento e di speranza per un'Italia diversa, unita e repubblicana. È affascinante vedere come un simbolo nato nel tumulto di quei giorni, nel 1797, si è riuscito a sopravvivere e a diventare il segno distintivo dell'unità italiana. Non possiamo che rimanere impressionati dalla capacità di quei simboli di attraversare il tempo e continuare a rappresentare un'identità nazionale ancora oggi. La lezione di Alessandro Barbero ci permette di guardare alla storia non solo come una serie di eventi lontani e scollegati, ma anche come un processo vivo che ha plasmato il mondo in cui viviamo oggi. L'invasione napoleonica in Italia non ha portato solo distruzione, ma ha anche piantato i semi per i futuri movimenti nazionali e democratici. Le idee di libertà, uguaglianza e fraternità che l'armate francesi portarono con sé non furono semplicemente imposte, ma trovarono terreno fertile in una penisola già segnata da profonde disuguaglianze e tensioni sociali. Grazie a figure come Alessandro Barbero possiamo comprendere meglio come questi eventi abbiano contribuito alla costruzione della nostra identità collettiva. Quindi ciò che emerge da questa lezione di Alessandro Barbero è un quadro complesso e sfaccettato. Le guerre napoleoniche non furono solo un conflitto tra eserciti, ma un vero e proprio sconvolgimento politico e sociale. Da una parte la brutalità della guerra con tutte le sue conseguenze devastanti, dall'altra l'introduzione di idee e simboli che avrebbero avuto un impatto duraturo sulla storia del nostro paese. Ed è proprio questo dualismo che rende questa fase della nostra storia così interessante e fondamentale per comprendere il cammino che ha portato all'unità d'Italia. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti dell'episodio. Grazie per aver ascoltato anche questa puntata. Ci risentiamo presto qui a Radio Puggino Nero.